Non dico bene perché direi una bugia, però io ho i cinque anni, a luglio che ero, sono questo, però la mia storia inizia da un po' di anni prima, che ero sofferente di bronchite e probabilmente non hanno mai capito che iniziavo questa malattia, che se forse avessero capito non sarei arrivata a queste condizioni, però devo ammettere che le malattie vengono anche dei vizi e non dico altro, ma è anche positivo, perché io per dire che non ho solo questa malattia, ne ho altre, però ho un carattere, l'infermiera lì ha detto non mi è mai capitato un paziente che non ha fatto beh come le ho dato all'ossidio. L'ho presa meglio che se l'avessi saputo subito col terrore di cosa mi aspetta per domani, quindi da quel punto di vista averlo scoperto a distanza di anni è stato positivo. Sì, un pochino ho cambiato sì perché pensavo ho smesso di fumare e tutto torna come prima, la capacità respiratoria e tutto torna come prima io pensavo, cosa che in realtà non è perché una volta che il danno è fatto, è fatto e poi c'è anche da tenere conto che io fumavo in ambiente chiuso, fumavo spesso in casa, quindi oltre al fumo attivo avevo anche il fumo passivo. Ci convivo abbastanza, mi sento sempre la diciamo questa zona piena, c'è il catarro come qualcosa di fermo lì che c'è ogni tanto c'è un po' di catarro eccetera e un po' di tu, qualcosina, sì lo sento, lo sento. Ci convivo male perché ero abituata a fare tante cose, ero molto dinamica e tutto, adesso mi trovo veramente in difficoltà anche semplicemente per il vestirmi, io per fare la doccia uso una sedia tanto per far capire. La mia qualità di vita tutto sommato è relativamente buona, nel senso che diciamo avendo la possibilità di fare una vita, avendola avuta in passato, di fare una vita abbastanza tranquilla e a maggior ragione avendola adesso che sono in pensione, diciamo io affronto le situazioni che so di poter affrontare. sapere che è una malattia che non migliora, che appunto tendenzialmente peggiora ma non migliora, quindi adesso il mio obiettivo comunque è tenerla sotto controllo, cercare di mantenere questa qualità di vita che comunque è una buona qualità di vita. Ci ho messo parecchio prima di chiedere di poter utilizzare un posto riservato ai disabili medici, perché insomma è stato difficile per me dover fare questo passo, dover non tanto dichiarare, perché io non ho mai fatto mistero della mia malattia, però dover esibire un certificato, insomma è stato un passaggio assolutamente non scontato da fare. ciò mi hanno spiegato cosa era questa bronchite cronica ostruttiva, mi hanno sì spiegato una cosa, infatti mi ha traumatizzato al momento e da un centro all'altro, da una parte all'altra insomma non avevo trovato ancora per i primi anni, non avevo trovato ancora la giusta, modo giusto per curarmi. Grazie a tutti.